ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale allora è terminata da pochi istanti all'etihad risultato di 1 a 0 per il city e il city la sblocca il 69esimo con il gol di kevin de bruin di certo non devo presentare io giocatore e l'assist l'ha fatto phil foden inizierei proprio da questo aspetto quando si parla di dei giovani io ho sempre pensato e continua a pensare che non non è tanto questione di essere giovane non essere giovane questioni di essere forte non essere forte e quindi se uno è forte può anche essere giovane ma sicuramente avrà le sue chance da giocare e da giocarsi invece se uno non è così forte è giusto che a mio avviso vada fare dell'esperienza con phil foden metterei su quel piano lì i giocatori tipo pedri i giocatori di questo tipo perché sono giocatori che lo vedi proprio che hanno un qualcosa in più rispetto alla media quindi è giusto e giusto che provino lo stesso bellingham del dormund sono tutti giocatori giovani ma di un certo livello quindi oggi il foden è entrato e sicuramente ha messo in sé la difficoltà l'atletico atletico che io continuo a dire imbarazzante quest'anno non riesco a capire onestamente come sia possibile che il cielo non riesca a trovare una quadra a questa squadra squadra che a mio avviso avrebbe dovuto vincere la liga a mani basse e in champions a mio avviso poteva essere una candidata alla finale non dico la vittoria ma secondo me una possibile finalista e invece continua a non giocare a calcio e continua a non esprimere i veri valori che ha cioè lo stesso depol che se voi lo vedete giocare con l'argentino è un giocatore di livello assoluto che ad esempio avrebbe voluto tantissimo la juventus è un giocatore che nell'atletico a mio avviso ancora non si è riuscito a integrare bene o comunque secondo me l'atletico ha anche problemi in fase d'attacco perché ha giocatori come joe felix come correa come griezmann poi a luis suarez che non riesco a panchina e gli manca a mio avviso un giocatore di peso di davanti io continuo a pensare che il giocatore perfetto per le caratteristiche dell'atletico madrid del ciolo era alvaro morata ma sappiamo che tra i due non è mai scoppiato l'amore e quindi alvaro fortunatamente direi gioca da noi e a simeone secondo me manca comunque una figura una figura del genere o comunque è una prima punta di un certo tipo oggi è andata l'etiad per fare la solita partita difensiva e che allora da un lato mi avviso anche del senso logico perché tu cerchi di incartare la partita al city per poi cercare di giocartela il più possibile al wanda metropolitano e quindi e quindi ci sta il problema è che devi riuscirci e fare una partita del genere all'etiad è veramente veramente complicato cioè pensare che il city non ti faccia nemmeno un gol è complicato poi ha diciamo del senso cercare di incartare la partita in questa maniera per il fatto che non ci sono più gol in trasferta non valgono più e quindi ti puoi permettere di fare una partita più difensivista secondo me il fatto dei gol in trasferta un po tolto un po di bellezza le partite perché appunto poi magari si verificano queste cose qui dove la squadra avversaria quindi quella in trasferta nello specifico non cerca in tutte le maniere di trovare gol ma magari si accontenta tranquillamente anche di non prenderlo però devo dire che questo atletico ai giocatori per fare molto di più e considerando quanto guadagna simeone mi sembra mi sembra abbastanza brutto che ogni anno in europa lui comunque la faccia giocare l'atletico in questa maniera io ricordo partite come quella col psv andate ritorno 0 0 0 0 partita che dove poi l'atletico è passate rigori l'atletico deve fare di più deve fare di più quest'anno non riesce a mio avviso a fare le partite un certo tipo ha fatto abbastanza bene contro lo united ma perché lo united secondo me è un'altra squadra che quest'anno ha deluso tantissimo però è troppo troppo e troppo difensivista quei giocatori che ha perché se questa partita in questa maniera la fa la juve di allegri contro una squadra magari nettamente più forte sui giornali su youtube sui social allegri viene massacrato e il solo simeone è comunque anni che in champions fa questo tipo di partite eppure non gli si dice nulla ma non gli si dice nulla allora io penso che i primi anni di simeone abbia fatto un grande lavoro che poi l'ha portata da giocarsi le due finali di champions e anche a volte con fortuna appunto passare torno col psv facendo 0 0 0 0 0 con due partite orribili e è andato molto vicino a vincere la secondo me l'avrebbe meritato però quando hai una squadra di questo tipo che l'anno scorso ha vinto la liga e che viene migliorata e hai un crollo nella liga in champions comunque veliti ad e ti riescono due contropiede in tutta la partita dove fai praticamente due mezzi tiri e in una partita in cui il city comunque è stato molto 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 impreciso perché ci sono stati errori costanti rodri debruin ha sbagliato tantissimo canse lo stesso ha fatto tanti errori cioè giocatori di grande qualità che fanno tanti errori un po per bravo la tua perché appunto di riesce in carta alla partita è un po perché non è la loro miglior serata allora deve riuscire a fare qualcosa in più cioè non puoi difendere in 68 e sperare in un contropiede di griezmann o di joan felix tra l'altro joan felix a me non ha mai convinto pienamente io penso che sia un giocatore tecnicamente forte ma mi sembra un di balla due la vendetta ditemi voi in quanti più giovani di paolo premettiamo però ditemi voi quante volte joan felix è decisivo nelle partite che contano poche poche poi certo se deve attaccare da solo contro tutta la difesa schiarata del city è chiaro che di fatica ne fa però da un giocatore come lui da un giocatore anche come griezmann mi aspetto molto 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 di più e quindi ripeto in una partita dove il city non è stato preciso e lo comunque i dati perché se ti ha fatto 15 tiri e solo due importa praticamente gli stessi che ha fatto l'atletico che l'atletico ha fatto due contropiedi praticamente anzi tra perché poi uno è stato sprecato e due tiri e capite bene che l'atletico deve fare deve fare di più cioè devi cercare di approfittare di questi errori perché poi di brun e non è riuscita a trovare il raddoppio ci sono state tante conclusioni finite alte finite fuori di parecchio quindi giocatori dell'importanza dell'atletico devono fare la differenza adesso sicuramente al ritorno al wanda sarà una partita diversa perché mi immagino comunque la bolgia sappiamo che poi l'atletico è una squadra che la mette molto su sulla garra sull'ignoranza anche molto spesso e a mio avviso non è una cosa sbagliata ragazzi ve lo dico chiaramente non è sbagliato mettere le partite sulla cattiveria sull'ignoranza in certi in certi casi va fatto già oggi sono riusciti a stuzzicare abbastanza i giocatori i giocatori del city mi immagino che al vanda se dovessero trovare del vantaggio aumenterebbero molto il livello di insopportabilità ricordo i tempi di arda turanio quando giocava arda ed era un giocatore di un certo livello la cattivera e l'ignoranza che ci metteva con diego costa e compagni ed era veramente duro faticoso giocare contro contro l'atletico secondo me non è più quell'atletico lì però ripeto per me l'atletico conclusa la campagna acquisti era nelle prime tre squadre prime quattro squadre candidate proprio alla champions per me ve lo dico onestamente era anche davanti al bayern però era un'idea mia ma non perché il bayern sia scarso ma perché mi aspettavo molto 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 di più da questo da questo atletico che poi a qualche giocatore che non mi fa impazzire ad esempio vedere versalico titolare non è una cosa che mi fa impazzire anche anche lo stesso sa dice non è uno di quei difensori che mi esalta onestamente penso che una squadra come l'atletico potrebbe avere anche qualcosa di meglio però ecco io veramente penso che con questa squadra al ritorno simeone possa assolutamente e anzi debba assolutamente a fare meglio però è difficile cioè devono riuscire a sbloccarla devono riuscire a imporsi anche perché secondo me l'atletico di una volta aveva qualità e tanta fisicità io all'atletico di oggi comunque non vedo questa grande fisicità perché comunque non lo so non mi non mi dà non mi dà l'idea di essere quella squadra appunto cattiva come era una volta sarà che ha perso giocatori appunto come diego costa eccetera eccetera però non mi sembra non mi sembra la stessa la stessa squadra e poi e poi appunto quando giochi contro giocatori come foden come debruin eccetera eccetera che hanno la qualità lo stesso bundola che hanno una qualità incredibile devi devi assolutamente giocare a 2000 e 2000 all'ora non puoi permetterti di metterti lì e aspettare perché prima o poi l'imbucata il gol te lo trovano cioè inutile prima o poi la giocata la trovano quindi ecco ragazzi secondo me secondo me a luanda sarà un altro tipo di partita e deve esserlo deve esserlo i tifosi faranno faranno tantissimo però onestamente per me resta strafavorito city cioè si ti ha fatto oggi 70 per cento di possesso palla quasi con 15 tiri in una partita non giocata bene qualitativamente o comunque molto meno bene rispetto al solito qualitativamente se si gioca bene gli da una rumba quest'anno all'atletico che se la ricorda per parecchio tempo aggiungo che il campioncino di gavrile gesù si è fatto squalificare veramente da babbo e quindi al ritorno non ci sarà carta in meno per per guardiola che però direi che in panchina di giocatori ne ha mancherà la prima punta vera però i giocatori ne ha tanto lui spesso volentieri rinuncia alla prima punta vera per giocare con un falso nuove o un attaccante adattato tra l'altro adesso siti avrà delle partite toste nel mezzo va a madrid andrà madrid con un gol di vantaggio ragazzi vedremo se il guanda avrà la capacità di far ribaltare la partita all'atletico io onestamente ho tanti dubbi ma non ripeto ma non tanto dubbi sul fatto che il siti possa andare sotto eccetera no ho tanti dubbi proprio sul sull'atletico io quest'anno l'ho visto giocare più e più volte e non mi sembra una squadra che mi assurdo perché il punto forte di simeone sempre quello di aver avuto dell'abilità di creare una squadra mi sembrano individualità messe lì e tra l'altro non di così alto livello perché comunque ragazzi l'atletico ha sempre avuto la sua forza nella nella squadra a livello di individualità ha dei giocatori forti ma non ha dei giocatori a mio avviso top a livello mondiale e o comunque i top top quindi la vedo dura onestamente che l'atletico si possa ritrovare nel giro di pochi giorni vedremo noi intanto ci ci aggiorniamo domani ancora non ho deciso se vedrò a real madrid o villa real bayern vedremo e niente ci aggiorniamo quindi domani vi invito a scrivere il canale di fuori del verbo un forte abbraccio e per adesso il ciolismo perde contro il guardiolismo si chiama così si chiama così va bene non mi sembra tutte strozzate sono semplicemente filosofie diverse e ragazzi io prima di salutarvi vorrei ricordarvi una cosa bisogna vincere quando conta poi che sia ciolismo che sia guardiolismo sia un'altra roba bisogna vincere quando conta guardiola l'anno scorso della vincere finale c'è che sono affatto vedremo se ci riuscirà quest'anno e per me il city e la squadra favorita per la vittoria un abbraccio ciao a tutti